Lo faccio commentare? Ma poi lo faccio come quello là, un masico, un masico Cioè, pensi al videoporno? Quando ti scopi una, devi sventrare la schiena Te l'ho fatto sentire perché onestamente non sono in grado di ripeterlo Colpa del porno? Sì, colpa del porno Il porno, io lo dico in maniera molto chiara, secondo me è un cancro che sta rovinando soprattutto i giovani Il combinato disposto tra il porno e questo aggeggio qua Permette, soprattutto ai più giovani che sono più fragili A entrare in una dipendenza, diventa una dipendenza comportamentale come la droga Quindi non ti basta mai lo stimolo Magari ti sbagli, abbiamo sentito anche nel servizio prima Quanto sono piccoli i bambini quando accedono al porno Magari accedi per sbaglio, perché poi c'è tutto un discorso di soldi, di business di cui si parlava prima Al primo porno e poi non ti basta mai lo stimolo E quindi hai sempre bisogno di uno stimolo maggiore Fino ad arrivare alla ricerca anche di video pedopornografici C'è un giro di video pedopornografici terribili E il porno è sempre più violento Infatti ho sentito parlare prima di educazione sessuale Il porno non è sessualità, è genitalità violenta Che è il contrario della sessualità